28 febbraio 1912 nasce clara petacci detta claretta l'amante di benito mussolini la compagna con cui il duce condivide i momenti più drammatici della sua vita compreso il finale il 28 aprile del 1945 la petacci viene fucilata con mussolini e i loro corpi esposti all'oltraggio della folla nel mezzo di piazzale loreto a milano il luogo viene scelto per vendicare simbolicamente la strage di 15 partigiani e antifascisti messi a morte per rappresaglia in quello stesso luogo il 10 agosto 1944